Benvenuti Makeup Lover, lei si chiama Tundra ed è un cane lupo ciecoslovacco. Ho scelto questa razza perché adoro i cani, in particolare i lupi, ho una fervida documentazione al riguardo ed essendo appassionata di cani e avendone già avuti in passato, ho deciso di cimentarmi in questa esperienza. Lei ha quattro mesi attualmente, come vedete sta giocando con il suo gioco preferito, uno zaino indistruttibile della Decathlon, per 10 euro ci sta, però armatevi di pazienza e di latte di yak, oltre che di giocattoli molto robusti, questo è il suo kennel, la sua tana e come vedete ci sono altri giocattoli, ma non ci sono solo questi. Allora, una volta che vi recate dall'allevatore, ovviamente ricordatevi di prendere un cucciolo con pedigree, registrato sui siti ufficiali, Enci, lei attualmente è seguita anche da una destratrice Enci. E costa, il tutto costa. Anche gli snack costano molto, gli sto dando tra che di manzo, tra che di cavallo, orecchie di maiale, di bue, di manzo, insomma di tutto e di più. Tra tutti i suoi giochi, come vedete, lei preferisce questo zaino. Allora, per prima cosa ricordatevi di vedere sempre i cuccioli a disposizione, lei l'ho scelta perché aveva un carattere abbastanza sociale e socievole con gli umani e con gli altri cagnolini, non ringhia mai, ma è sempre a scodinzolare, quindi vogliamo nell'adulto tale comportamento continuato, anche se non è nella sua natura, questo per il benessere sociale. Ovviamente ricordiamoci di uscire sempre con il guinzaglio. Le passeggiate sono 4-5 tutti i giorni, anche se brevi di 20 minuti l'una, però deve fare i bisogni il cucciolo. Inizialmente questa cucciolina mangiava 50 grammi a pasto, piano 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 siamo arrivati a 100 grammi a pasto. Allora, attualmente gli do le crocchette, invece quando ho qualche carne disponibile senza ossa posso darglielo. Vi dico che i primi tempi, il primo mese, cioè quando aveva due mesi e ne doveva compiere tre, sono stati una passeggiata perché era molto docile, esplorava l'ambiente, non ha mai pianto di notte. Chiaramente deve vedere in voi un leader. Diciamo che questo cane vi farà scoprire anche il vostro carattere, perché io vi parlo per la mia esperienza personale, è chiaro che ogni cucciolo sia a sé stante. Lei ha bisogno di un leader forte ma gentile. Forte nel senso che ci vuole polso e destrezza nel fargli imparare le cose, ma gentile nel senso che deve essere calmo, perché il leader non deve mai perdere la calma. Deve sempre dire tutto chiaramente, tutte le regole, fare tutto con ordine, altrimenti prendono il sopravvento. Un vizietto che stiamo tentando ancora di rimuovere è quello di saltare ogni tanto dal tavolo, ma questo lo fa più per curiosità anche perché il tavolo non c'è cibo, è vuoto. Quindi, come avete capito, è la curiosità del cucciolino anche del saltare a volte. Ma nonostante questo, a parte il primo mese, devo dirvi che questi ultimi due sono stati un inferno, perché il cucciolino, anzi la cucciolina, sta cambiando i dentini e devo dire che appunto questi giocattoli, questo zaino che lei rosicchia, come vedete ci sono delle piccole macchioline di sangue rosse, perché il cagnolino ha perso i suoi dentini da latte e intanto sta sfregando le gengive per far posto a quelli nuovi. Quindi ricordatevi sempre di insegnare almeno i comandi base per avere un cane equilibrato ed educato. Non si parla di addestramento come si può parlare per un cane normale, qui si parla di una vera e propria educazione alla socialità. Quindi, vedete che non sempre mordicchia i giocattoli, perché adesso è il quarto mese, sta imparando ad ascoltare di più e ad esplorare. Ha un concetto un po' più forte di famiglia, di kennel, di branco, di unione e di ascolto. Adesso ascolta un pochino di più, un pochino detto, non tanto, perché vi ricordo che ha appena compiuto quattro mesi da poco. Se avete visto la traversa, è per qualche emergenza, perché attualmente questa cagnolina la fa tutte fuori i bisogni, però se c'è un'emergenza, c'è un'emergenza, può succedere. Ricordiamoci di abituarli fin da piccoli. Occhio a non farli salire sul divano come me, perché io la faccio sempre scendere dicendo cuccia, e lei lo sa, assolutamente, e solo che ogni tanto fa la birichina, perché mi vede col telefono in mano e si incuriosisce. Come vi stavo dicendo, è un cane in cui portare molta, molta pazienza, perché lei ha quattro mesi, quindi convive con me da due, e devo dirvi che deve essere sorvegliata a vista, perché se no i danni saranno eclatanti. Lei non ha il concetto ancora di kennel come tana, ma come di ripostiglio, non gli piace, diciamo. Per quello c'è la cuccia fuori, per stare ogni tanto anche con noi, in modo che si rilassa senza essere costretta nel kennel. Chiaramente ha più kennel e più cuccia in diverse stanze. Quindi, se non avete tempo, se non c'è qualcuno che può guardarvi il cane, mentre siete a lavoro, fuori, a passeggiare, finché è troppo piccolo, non può assolutamente essere rinchiuso nel kennel, perché vi abbaia tutto il giorno, ulula fortissimo, ve lo distrugge, poi vi distrugge casa, e avrete anche la vostra vita distrutta, anche dai vicini, immagino. Quindi, secondo me, è meglio tenere in considerazione l'opzione amici, parenti, per avere una sorveglianza ottimale, ma anche per farla crescere in modo equilibrato. Essendo un lupo, ha il concetto di branco, non di solitudine per tutto il giorno, quindi è giusto dargli l'opportunità di dedicargli i giusti tempi, ma anche di creare le giuste socializzazioni con altre persone. Per i pasti, ve l'ho già detto, è una mordacchiona fortissima, quindi bisogna prestare estrema attenzione al morso, e fargli un po' allentare la presa durante i mesi, perché sennò vi fate male, molto molto male, e io ho tutte le braccia aggraffiate. Per il resto, quando inizia adesso un po' ad ascoltare, inizia ad ascoltare un po' il lascia, il no, il suo nome, due o tre comandi, è ancora molto piccola, ha compiuto quattro mesi da poco. Credo sia abbastanza normale, come per tutti i cagnolini. È solo che ha gli istinti molto più accentuati, soprattutto quelli predatori, quindi è un cane da farci molta, molta attenzione. Sicuramente vi pinzerà mani e piedi, o a volte anche le gambe per giocare, lei non lo fa apposta e vi farà male, però dobbiamo insegnargli ad allentare la presa, perché noi siamo il capo branco. Per le altre informazioni, ve lo dirò nei prossimi mesi, perché adesso siamo a due mesi, che siamo insieme, io e la cagnolina, che dirvi, l'addestratore è indispensabile, perché vi fa conoscere meglio il cane, come approcciarci, soprattutto se non avete mai avuto un lupo, un cane lupo, ma anche se voi lo avete avuto, vi fa conoscere meglio il carattere del cane e diversi approcci, per essere corretti e coerenti. Quindi io consiglio sempre di affidarci a un professionista, perlomeno per le cose base. Poi il resto, piano piano, iniziamo dalle basi. Quindi, io vi ho parlato della mia piccolissima esperienza, spero di avervi incuriosito, dato un po' di risposte, mi sono basata anche sulla sua routine quotidiana, e che dirvi, adesso c'è ancora il vizio della mordarola, molto molto meno, perché l'appunto la stiamo seguendo tutto e per tutto, e infatti ho già anche un po' le ciabatte scarcagnate, perché lei adora prenderle, adora prendere soprattutto gli oggetti sui mobili, tantissimo, bisogna dirgli assolutamente di no. Ricordiamoci di chiudere porte e finestre, ovviamente, perché fanno dei salti terribili. Ricordiamoci che sono sempre un pochino dei lupi. Lei è un nome e un fatto, nel senso è un cane, sì, lupo cecoslovacco, sì, perché il papà è proprio un cane lupo cecoslovacco, e la mamma invece è un cane lupo cecoslovacco, ma nato e cresciuto in Italia, l'altra invece è proprio cecoslovacco, 100%. E lei è una testona, una testadura, non vi fa mancare nulla, anche perché quando ho provato, ad esempio a pulire per terra, avere qualcosa in mano, ve lo strappa via subito, qualsiasi cosa che trova per terra la prende per giocarci, perché piccolina, noi sempre con gentilezza dobbiamo assolutamente rimuovere i corpi estranei, come ad esempio una penna trovata sul tavolo, un fazzoletto che cade per terra, la qualunque, bisogna farci estrema attenzione, quindi questo cane è estremamente impegnativo, estremamente, perché bisogna dargli una sorveglianza totale, vedete, come adesso che provo a mordere la gomma della finestra, una sorveglianza totale, in modo deciso, forte, ma gentile, ricordiamocelo sempre, come vedete, lei ha ancora i dentini da latte, li sta spuntando, li sta cambiando, e questa è la cagnolina, se avete altre domande, ci confrontiamo nei commenti. che vedete, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.